buongiorno a tutti e benvenuti a questo video tutorial della biblioteca di broguerio in questo video tutorial vi mostreremo come recuperare la vostra password di accesso nel caso non ve la ricordiate è sufficiente fare clic su login e su hai dimenticato la password a questo punto dovete inserire uno dei valori che sono riportati qui vi consigliamo di scegliere barcode che sarebbe il numero di tessera se ve lo ricordate oppure se non vi ricordate nemmeno il numero di tessera l'indirizzo email che avete lasciato quando vi siete registrati in biblioteca e avete fatto la tessera della biblioteca in entrambi i casi vi arriverà un email di reset della password ad esempio mettendo l'indirizzo email io qua metto non l'indirizzo ufficiale della biblioteca ma un indirizzo che ho creato per l'occasione e andando a controllare nella propria email come vedete ricevete una email che si intitola richiesta di recupero password in cui avete sia il numero della tessera con cui poi vi dovrete autenticare come user name sia la possibilità di impostare una nuova password a questo punto potrete rifare il login con il numero di tessera che vi è stato comunicato nell'email e la password che avete appena impostato ecco che vi siete nuovamente autenticati a biblioteca grazie per aver seguito i nostri video tutorial